Il concorso JunoRend arriva dall'interno Michael Lauber. Iniziamo con il primo concorrente della prima categoria, Maria Alia, dieci anni, che presenta un ciao ciao. Isabella, otto anni, con uno Staffordshire Bull Terrier. Francesca, dodici anni, con un barbone nano-fulvo. Eragon, sei anni, con un barbone. Eleonora, otto anni, con un papillon. Ginevra, dodici anni, con un Norfolk. Facciamo un applauso. Ai sei ragazzi che sono stati selezionati nella preselezione che è avvenuta poco fa, di tutti i concorrenti che c'erano iscritti in questa categoria. E abbiamo al sesto posto Eragon con il barbone. Vai pure verso il podio, Eragon. Guarda che c'è il giudice che ti aspetta per la premiazione. Al quinto posto Eleonora con il papillon. Al quarto posto Ginevra con il Norfolk. Saliamo sul podio con Francesca, con il barbone nano. Voi fate un giro di ring, tutte e due assieme, un bel applauso. E abbiamo Maria Lia secondo posto e Vinci Isabella con lo Staffo Shai Bull Terrier. Grazie. Grazie.